Sono Alberto Ferrando, pediatra del territorio e faccio parte di una associazione scientifica di pediatri, l'Associazione dei Pediatri Liguri, che fa parte dell'associazione nazionale chiamata ACP, Associazione Culturale di Pediatria. Opero a Genova e come pediatra, come ho detto, sul territorio, a contatto con le famiglie e con i bambini quotidianamente, sia per le malattie ma anche e soprattutto per evitare le malattie. Nella mia pratica corrente vengo in contatto con tanti bambini, con tante famiglie, tra questi una percentuale di bambini, le cui famiglie hanno orientamenti alimentari o hanno delle scelte in tema di salute e di sanità non in linea con la tradizione. Parlo di famiglie che auspicano un ritorno al naturale, non vogliono alcun farmaco e ho anche un ritorno di famiglie che fanno delle diete vegetariane o vegane o anche di altro tipo, per motivi non solo di salute o di ambiente, ma anche per motivi di etnia, di razza. Ci sono delle popolazioni nel mondo che fanno delle alimentazioni prevalentemente vegetariane. In questi casi, come pediatra, la prima cosa che io attuo è il rispetto delle scelte delle persone e quindi prendo in cura i bambini di famiglie che fanno delle scelte vegetariane e vegane oppure sono contrari alla medicina tradizionale. Il primo obiettivo che ho come pediatra è la salute del bambino. Quindi inizia, quando ci conosciamo, un percorso per cui io espongo il mio punto di vista e ascolto il punto di vista delle persone e non mi vergogno di dire che ho imparato tanto da persone non medici che hanno espresso delle scelte che andando a verificare avevano una base e potevano servire anche per altri bambini. Quindi nessun preconcetto e apertura a tutti per la salute dei nostri bambini, di conoscere perché i bambini che seguo me li sento un po' miei. Io sono presidente dell'Associazione Pediatri Liguri. All'interno della nostra associazione abbiamo discusso di questo problema dell'alimentazione vegetariana e abbiamo chiaramente alcuni pediatri che hanno delle posizioni più tradizionali e dei pediatri che hanno posizioni più aperte. Però vorrei ricordare che tutte le cose hanno bisogno di un certo periodo per cui l'approccio che cerchiamo di avere è quello di conoscere, di approfondire, di informarci, di informare e dalla conoscenza delle cose possono derivare dei consigli utili per tutti i bambini. Riguardo allo svezzamento devo dire che come pediatra, io sono un pediatra tuttora tradizionale perché la cultura che ha avuto la pediatria è sull'alimentazione onivora. Però venendo a contatto con famiglie che fanno un'alimentazione vegetariana è stato mio dovere informarmi, approfondire le conoscenze e ho letto vari libri della società scientifica di nutrizione vegetariana. Libri molto interessanti perché portano varie conoscenze sia per me ma anche fanno individuare alcuni punti comuni che abbiamo sul benessere del bambino. Quindi sull'educazione è tutto tondo come si deve mangiare perché alcuni genitori dicono il bambino non mangia oppure non mi mangia che è un termine che viene utilizzato, non vuole le verdure allora non gliele do. E qui entriamo un discorso proprio di educazione che dobbiamo fare alle famiglie e di insistere perché se un cibo non viene accettato all'inizio verrà accettato se lo ripropone e magari se il bambino vede che papà e mamma lo prendono volentieri. Per quanto riguarda lo svezzamento io seguo lo schema di svezzamento classico. Come pediatra rafforzo la mamma sull'utilità di dare il latte materno finché la mamma può allattare e qui dovremo fare una piccola parente sulle difficoltà che ha la mamma del ritorno al lavoro per cui alcune mamme debbono riprendere il lavoro e debbono smettere l'allattamento al seno che può proseguire anche oltre l'anno. Al sesto mese se la mamma allatta si inizia lo svezzamento con un'alimentazione di età complementare a richiesta. Anche qui sullo svezzamento ci sono vari schemi, ci sono schemi che prevedono un intervento più rigido del pediatra con alimenti preconfezionati e ci sono schemi come suggerisce l'Associazione Culturale di Pediatria di svezzamento a richiesta. Queste sono cose che poi vanno un po' discusse per il singolo bambino con il proprio pediatra perché non esiste uno svezzamento standard che vada bene a tutti i bambini. Lo svezzamento se la mamma dà il latte artificiale, latte in polvere, si può iniziare prima come raccomanda l'Organizzazione Mondiale della Sanità tra la diciassettesima e la ventiseiesima settimana di vita del bambino. Questa fase qui è una fase dello svezzamento che deve essere affrontata dalla famiglia, si può dare un latte artificiale dietro linea 2, esistono dei latti vegetali, quindi la famiglia che fa una scelta vegana, fino al primo anno anno, ci sono dei latte in commercio che consentono fino al primo anno di vita compiuto del bambino un supporto completo, un apporto completo di alimenti e di nutrienti e di vitamine. Quando sono stato intervistato per il bambino ricoverato a Genova con quei titoli clamorosi, sono venuti altri casi in Italia, io temo che ci si limiti spesso alla prima fase sensazionalistica, perché un'alimentazione vegetariana e anche vegana, ma non lo dico io, lo dice l'Associazione Americana di Dietologia, lo dice l'Accademia Americana di Pediatria, una dieta vegetariana, l'atto-ovo-vegetariana, una dieta vegana che non prevede neanche il latte all'uovo, non comporta nessun problema per il bambino né per la mamma. Ci sono alcune sostanze su cui dobbiamo stare un pochino più attenti, su tutte una che è la vitamina B12, perché carenze ce l'hanno anche i bambini alimentati al seno, la vitamina D va supplementata in tutti i bambini nel primo anno di vita e anche nell'adolescenza. Riguardo ad altri nutrienti come il ferro, lo zinco, l'acido folico, le proteine, se la dieta vegetariana viene fatta in modo adeguato non sono dimostrate alcuna carenza. I bambini ricoverati erano dei bambini in cui i genitori facevano il fai-da-te, il fai-da-te vuol dire allora seguo un'alimentazione solo con vegetali di un certo tipo e se non faccio un equilibrio tra vegetali e frutta di vario tipo rischio delle carenze. Quindi ci sono delle diete fatte senza un supporto del pediatra, senza un supporto di un esperto, ormai quasi in tutte le città ci sono degli ambulatori che aiutano e fanno delle diete vegetariane o vegane. Anche a Genova abbiamo un servizio di alimentazione per bambini vegetariani. È fondamentale che i pediatri parlino con i genitori e i genitori parlino con i pediatri. Prima di operare in ambulatorio, adesso faccio da solo, operavo in un ambulatorio con infermiere e segretarie. Alcuni genitori avevano timore di segnalare che facevano una dieta di tipo vegetariana mentre la segnalavano alle segretarie perché le vedevano come mamme. Quindi io il consiglio che posso dare ai genitori, tutto si può fare, l'importante è parlare. Parliamo, discutiamo, esponiamo le nostre idee, uno può pensare in un modo o un altro, però se partiamo dal principio che ognuno può dire qualche cosa di giusto, dobbiamo stare a parlare e ascoltare. Come ho detto già, io ho imparato molto dalla gente che mi ha detto alcune cose che col tempo si sono dimostrate di una certa utilità.